La sezione psichiatrica dei carceri verrà svuotata entro giugno. Nuovi agenti di polizia penitenziaria dovrebbero arrivare in organico entro ottobre. Dal Tribunale alla Prefettura al carcere di Baldenic, tour cittadino per il sottosegretario della Giustizia Andrea Ostellari, al centro dell'attenzione la situazione degli organici. Noi riusciremo ad avere un buon trattamento in relazione ovviamente al percorso educativo dei detenuti se avremo anche la capacità di avere numeri e qualità, non solo della polizia penitenziaria ma anche del personale inteso, educatori fondamentali, psicologi che ovviamente contribuiscono e devono contribuire a una crescita di un percorso idoneo con i principi della nostra Costituzione. Al Baldenic mancano in pianta organica 16 dei 95 agenti previsti che alcuni ne verranno assegnati prossimamente e che soprattutto non ci sarà più la sezione psichiatrica sono sicuramente per gli operatori buone notizie. Qui in questa casa secondariale ci sono dei progetti che alcuni di quali saranno ovviamente portati a termine a breve tempo quando immagino non prima di un anno che sistemeranno ovviamente quella questione anche della sezione psichiatri che va risolta assolutamente. Quella però sezione prima di essere sistemata deve essere svuotata e questo svuotamento verrà circa a giugno di quest'anno.